Sono da solo contro due persone ragazzi, da solo contro due, ok ce l'ho fatta, wow Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bedwars Oggi ragazzi cercheremo di fare l'impossibile, avete capito bene? Mi trovo nelle team Bedwars e sono completamente da solo Per far sì che questo riuscisse ho dovuto invitare un amico e lui poi ha leftato subito dopo essere entrato nel mio team E ragazzi secondo me sarà difficilissimo se non impossibile riuscire a vincere questa partita Però io sono pur sempre l'imperatore Kendall Magno, quindi posso riuscire a fare di tutto Tra l'altro ci sono un bel po' di fan in partita quindi vi saluto tutti quanti E se riusciamo a vincere questa partita ragazzi o se non altro se riesco a fare qualcosa di epico Io voglio come minimo 3500 mi piace a questo video, proprio me lo dovete Se io riesco a fare qualcosa di epico o arrivare alla vittoria o arrivare anche solo in finale Mi dovete almeno, almeno 3500 mi piace E ora a te ti devo uccidere, mi dispiace Uh, ha già una spada migliore di me però mi dispiace sei morto E devo anche stare attento a non farmi buttare giù da nessuno E soprattutto adesso probabilmente non posso fare lo spaccone e non proteggere il mio letto Credo che dovrei iniziare a proteggerlo Perché se non lo dovessi proteggere contro team da due sarebbe un rischio fin troppo grosso Che probabilmente non posso correre Quindi per ora lo proteggiamo un attimo con la la Anzi no 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 aspettate Aspettate il piano adesso è cambiato Devo tornare al centro, uccidere lui E poi forse lo posso andare a proteggere il mio letto Oh mio dio lui è una spada migliore della mia E sono riuscito a ucciderlo lo stesso Wow Ok sapete cosa ragazzi Torniamo indietro Speriamo di avere abbastanza oro per poterci prendere una corazza in iron E per prenderci anche una gapple No ne ho soltanto abbastanza per la corazza in iron E mi serve decisamente quindi ce la prendiamo Poi la spada in stone e voglio proprio vedere adesso se loro vogliono venire di nuovo E proteggiamo un attimo il letto proprio alla bene e meglio con i blocchi di lana Perché tanto non fa niente Giusto per avere una piccola protezione Una minima protezione Non mi interessa di altro Sì potrei andare da loro e rompergli il letto Lo faccio? Ma io lo faccio ragazzi Io lo faccio ed abbiamo già eliminato un team Mi dispiace caro bianco Tra l'altro è andato pure FK Oppure sta laggando Sta decisamente laggando Ok abbiamo eliminato un team Il che significa che adesso abbiamo ben due isole a nostra disposizione Più l'intero dominio e l'intero controllo dell'isola dei diamanti Quindi abbiamo quattro diamanti pronti E tantissimo oro da poterci prendere Ragazzi io vi ripeto 3500 mi piace per questo video È proprio il minimo che potete fare No no niente screen Niente screen Uuuuh si è buttato Si è buttato e mi voleva uccidere Hai capito lui Furvetto il ragazzino Però mi dispiace non ce l'ha fatto E mi sono anche presso due smeraldi Non riuscirò mai a vincere se non sono equipaggiato benissimo Quindi abbiamo decisamente bisogno di smeraldi E abbiamo anche decisamente bisogno di killare il fan Non posso assolutamente fare team Te l'ho già detto E adesso devi morire in qualche modo Oh mio dio Ok c'è un altro Questo è l'altro fan Eppure lui Ho pochissima vita però lui ha deciso di scappare Bene 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 hai fatto Ah no non vuole scappare Vuoi venire Attenzione eh ce n'è uno dietro E adesso io uccido tutte e due Uccido il rosso Mi prendo la sua roba E poi uccido il fan Se prova a tornare indietro contro di me No sembrerebbe che voglia scappare via Ho bisogno soltanto di un altro smeraldo adesso Uno smeraldo e mi faccio la corazza in diamante E non solo Mi ci metto anche un bel protection Non appena torno nella mia isola dei diamanti Perché come sapete bene ragazzi L'isola dei diamanti è tutta quanta mia Oh ok perfetto Devo tornare immediatamente a casa Devo prendermi anche le cose del bianco Perché non si sa mai Magari è pienissimo zeppo di oro in questo momento Molto probabilmente lo è E ci abbiamo abbastanza diamanti forse per fare il protection 3 Non ne sono neanche troppo sicuro a dire la verità Però mi dovrei fare anche la sharpness Eh forse mi conviene che mi faccia una sharpness Vabbè riprendiamoci tutto quanto intanto 6 smeraldi Quindi corazza permanente in diamante Ottimo E con questi 5 diamanti Sì mi faccio la sharpness Decisamente sì Ci mettiamo questo qua dentro Poi con questo oro lo conserviamo per ora E torniamo al centro ragazzi A dominare Perché ovviamente avendo il controllo del centro Riusciremo a fare una partita decisamente migliore E ci sono ancora troppe persone in vita Troppe persone con il letto E troppi ovviamente team Perché sono tutti quanti in team Tranne me Quindi sì Sarà decisamente tanto tanto difficile Dovrò iniziare anche a fare una bella protezione migliore Nel mio letto In quanto attualmente fa letteralmente schifo Questo ha un arco Il che non mi piace per niente a dir la verità Ah Quindi questo blu lo dovremmo eliminare il primo possibile E lui vuole continuare il fan a uccidermi Mi dispiace ma non sai per caso che io sono l'imperatore Kendal Non mi puoi di certo uccidere in questo modo Non quando tra l'altro io sono messo 100 volte meglio di te E anche tu Non lo sai che sono l'imperatore Kendal Ma quante volte lo devo dire? Quante volte lo devo dire ragazzi Che non mi si può battere nelle battles eh E guardate anche questo rosso Questo rosso adesso verrà eliminato Pure lui Più kills faccio ragazzi Più la gente ovviamente perderà armature e armi E più mi prenderò i loro smeraldi nel frattempo Ora guardate Di nuovo contro due Da solo contro due Di nuovo Muori 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 Un'altra sparata Perfetto E arriva qua il suo compagnetto pronto Ad aiutarlo Io non ho più vita ragazzi Non ho più vita Guardate sono praticamente morto E ovviamente ora mi attaccano e mi clean up Ovviamente Dopo aver fatto 10 combattimenti Quanti ne ho uccisi scusate? No ma ora a parte gli scherzi 1, 2, 3, 4 E stavo anche uccidendo il quinto Va bene Il nostro letto non è ancora protetto Abbiamo bisogno anche di altri smeraldi Perché a dir la verità ragazzi Ci vorrei mettere Della ossidiana Avete capito bene? Mi sa che questa volta avremo bisogno Dell'aiuto Della nostra cara ossidiana E io non vorrei Combattere adesso Perché sinceramente Ho solo una spada Veramente pessimo Una spada in pietra Quindi Torniamo un attimo qua Mi prendo degli altri smeraldi Aia Questi due mi ammazzano Questi due sono messi bene ragazzi E uno di loro lagga Tra l'altro Lagga tantissimo Vediamo Oh mio dio quanto lagga No 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 Questo vincerà la battaglia Solo perché lagga E invece no Non ha vinto assolutamente Un giufolo di niente Torno qua Mi prendo un altro smeraldo E poi basta E poi basta andare al centro Lui mi vorrà combattere Tu non sei molto convinto Di quello che vuoi fare È vero Cioè io dubito Che tu vuoi combattere Contro un imperatore Come me in questo momento E infatti Avevo detto Che ti conveniva Non farlo Te l'avevo detto Non mi hai voluto ascoltare Va bene Comunque più kills facciamo ragazzi Oltre al fatto che Io sono contento Se faccio tante kills E voi sicuramente Lo siete pure per il video Dicevo più kills facciamo Meno roba hanno loro Perché si devono andare A ricomprare le spade E quant'altro Quindi è un bene Se continuiamo a uccidere Tutta la gente Ci facciamo protection 3 adesso Ottimo Ci prendiamo adesso 4 di ossidiana Perché è sempre No che sto facendo Perché è sempre meglio di niente Ragazzi avere un pochettino Di ossidiana Va bene Va molto molto bene Poi un piccone Ma si un piccone Scrauso qualsiasi Uno di questi E ok E adesso dobbiamo iniziare A creare la nostra protezione Per il nostro letto Quindi mettiamone Uno qua Uno qua Poi Uno qua E direi di metterne Uno qua Così A caso ragazzi Dopo di che prendiamoci adesso Questo E lo mettiamo qua 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 Poi Qui attorno Esatto ragazzi Adesso si che stiamo facendo Una protezione Discreta Perché non è ancora niente Di che ovviamente ragazzi Stiamo facendo una Semplice protezione Normalissima Non appena avremo Più blocchi Cioè più smeraldi E più blocchi di Ossidiana Da poter utilizzare Li useremo sicuramente Riprendiamoci adesso Landstone Che mi sono comprato prima Perfetto ragazzi Ora abbiamo una protezione Notevole Una protezione notevole Non è niente Ricamero Neanche malissimo Continuiamo in questo modo Qua così Perfetto E adesso direi di Andare a posare Tutti questi materiali Qua dentro Sì 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 Decisamente Posiamo tutto quello Che non mi serve Perché tanto Ci abbiamo già i blocchi Ok Anzi possiamo anche Un pochettino Di iron Perché tanto Che me ne faccio Di tutto questo iron Ragazzi Devo andare a equipaggiarmi Ancora meglio Di come sono già Equipaggiato Perché vorrei Un bellissimo Protection 4 Sei sicuro Non ti è bastata La lezione Non ti è bastata Va bene E allora Te ne do un'altra Non ti preoccupare Guardalo Guardalo come Viene agguerrito Contro Kendall Eh mi spiace No 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 Non è così Che si combatte Non combatti Di certo così Contro un imperatore Con gli altri diamanti Poi ci faremo Le trappole E quant'altro Mettiamo questo No anzi anzi Aspettate ragazzi Non metto niente Da nessuna parte Mi devo prendere Allora Un arco Mi serve decisamente Un arco Sì anche un arco Normale va benissimo Se dici frecce Bassano E avanzano Poi ci prendiamo Della TNT Ci prendiamo Delle Gapple Ok Un'altra soltanto Perfetto E con tutto questo iron Ci dobbiamo prendere Degli iron golem Sì ne abbiamo decisamente Bisogno Quindi me li prendo Molto volentieri Ok due Dovrebbero bastare Dovrebbero fare Lo sporco lavoro E ne mettiamo Uno qua E uno qua Va bene Ok Adesso abbiamo Un arco Quattro Gapple Della TNT E mi devo andare A prendere anche Un enderpearl Perché adesso È arrivato Il momento Di iniziare Ad andare Contro i miei avversari Avete capito bene Direi di prendermi Anche se posso Delle palle esplosive Quindi sì Ne prendiamo due Ottimo Ci prendiamo Degli altri blocchi Perché non si sa mai Ora potrei veramente Morire Potrei rischiare la vita Quindi tutto quello Che non mi serve Conviene metterlo Nell'ender Cioè se Facciamo così Vediamo se riesco A rompergli quel ponte No Per niente Ecco la mia tattica Era quello di rompergli Il ponte Così io poi tiravo L'enderpearl Loro non potevano Più tornare a casa E gli rompevo Il letto Ecco Avrebbe funzionato Se soltanto Io non facessi schifo Con quelle palle esplosive Tiriamo l'enderpearl Adesso Perfetto Mi dispiace Cari fan Ma non potete Di certo Lasciare il vostro letto Incussolito Contro un Kendal Imperatore Ora mi mangio Una Gapple Oh mio dio Ma è forte questo Io pensavo fosse un pochettino Più scarso E no 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 Tu non puoi dire Oh mio dio Ecco vedete ragazzi Che significa giocare Contro due persone Al posto Anziché giocare Contro una soltanto E molto molto Più difficile E sono appena morto Forse lo prendo con la freccia No Non ce la faccio Oh mio dio Oh mio dio C'era uno pronto subito Per rimettere la protezione Del letto Quindi non la potevo rompere E invece Il suo compagno Mi ha fatto veramente malissimo Porca miseria E' molto molto più difficile Di quello che pensavo Ragazzi Combattere contro Due persone Al posto di una Quindi essere in Uno contro due E ora probabilmente Si cercheranno di vendicare In qualche modo E cercheranno di venire Con l'Ender Pearl Se non altro Complimenti ai miei fan Perché sono stati veramente Molto bravi A difendere la loro isola Beh seppur loro erano In due euro da solo Però sono stati molto bravi C'era La tattica se non altro E' stata molto intelligente Uno proteggeva di nuovo il letto Anche soltanto con la lana Non importa Perché in quel caso Dovevano semplicemente Allontanarmi L'altro responava E mi chillava E tu caro rosso Cos'è ti sei perso Ehi ti sei perso Cappuccetto rosso Sono qua Dove vuoi Dove vuoi andare Cosa Stai facendo Non capisco ragazzi Era perso Secondo me Cappuccetto rosso Hanno piazzato Ovviamente il letto Abbiamo bisogno Adesso se io muoio Sette minuti Sono entrambi qua Sono entrambi qua Davanti a me Ok se si buttano E' la fine per loro Dai vieni qua Vieni contro di Kendall Vieni contro paparino Se lo prendo ragazzi Ora è finito Se lo prendo è finito Porca la miseria Non prende knockback ragazzi Questo non riesce a prendere knockback Nonostante lo prendo Non prende mai knockback Ora lo dobbiamo uccidere A tutti i costi Sì 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 Vediamo se riesco a eliminare Un team da due ragazzi Mentre sono solo Eh non ce la farò mai Non ce la farò mai ragazzi Un team da due Mentre sei completamente da solo È impossibile da eliminare Guarda 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 Oh mio dio L'ho lasciato Oh no Ho lasciato uno a dieci E l'altro a tre Non ci posso credere Ho fatto la bellezza Di 21 kills GG GG ragazzi Partita epica Ovviamente i fan Sono stati bravissimi A giocare Anche se hanno camperato Un pochettino troppo Però li stavo anche Quasi uccidendo Quindi mancava tanto così E vincevamo Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto Questo video Condividetelo con tutti I vostri amici Hashtag Imperatore Kendall Qua sotto Nei commenti Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video